Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. La giornata di sabato con il minimo di bassa pressione che ormai avrà abbandonato l'estremo sud Italia, si troverà sul Mediterraneo orientale e sulla nostra penisola rimonterà un po' di alta pressione da ovest. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio quello che succederà perché il sole non mancherà su molte zone, farà capolino dopo le nubi temporalesche anche all'estremo sud. Nel dettaglio la mappa delle precipitazioni con questo clima asciutto dappertutto, le piogge oltre Alpe, possiamo notare di fatti come nei stati centrali del vecchio continente ci saranno delle perturbazioni che si muoveranno da ovest verso est, ma non interesseranno l'Italia, infatti qui cieli sereni o poco in volosi, un po' di nubi irregolari solamente sull'alto tirreno. Temperature dappertutto oltre i 20 gradi. Dettagli e approfondimenti come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.